20 maggio 2012 Emilia Romagna colpita dal terremoto Prima di guardare questo video i nostri pensieri vanno alle persone morte, ai feriti e a quelle che in questi giorni stanno soffrendo a causa del terremoto. Persone che vivono la paura, il terrore e che nonostante tutto non si arrendono. Un grazie sentito va a tutti i volontari dell'Emilia Romagna e allo staff Gaci che con la pena nel cuore per quanto accaduto alle loro città o ai loro amici stanno ancora lavorando per la salvezza di altre 54 creature destinate alla morte e per il nono raduno nazionale levrieri adottati. Il terremoto è sempre e solo e infiante. Il discorso di oggi, di questo grande cambiamento, non porterà come fuori di allevamento nient'altro. crescono congrei out e in teoria muoiono congrei out, sul più il resto la loro sita è strutturata di gabbia, tenner, allevatore, comunque allenazione e non c'è niente. Quindi sono cani che non potessi sottolineare l'energizio servizio. E' una sensata che inizialmente il nostro aiuto è quello di inizialmente il nostro aiuto è una cosa abbastanza grande, purtroppo sicuramente devo fatidire di avere un po' più grande. I cani che arriveranno adesso sono tutti i primi, però inizialmente il nostro aiuto è un po' più grande. E' un po' più grande. E' un po' più grande. E' un po' più grande. Grazie. 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 Viaggia cadrà, e l'aria sarà più pulita, questa città, dove tutto sembrava finire, ed è Eccoci qua di nuovo un mattino Ritornerà quella gioia e la voglia infinita E se ne andrà la paura di perdersi ancora In questa dolce attesa che ci fa tornare adesso Cambio mentre viaggio nell'immenso In quante cose io mi perdo adesso Come graffio nel sereno Come goccia di veleno che mi fa morire e poi guarire Pioggia cadrà e la sorte sarà più decisa In questa età dove tutto sembrava svanire Ed eccoci qua